Buongiorno a tutti, benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo questa pizza con le mele, una variante alla torta di mele classica. Qui abbiamo 80 g di lievito madre rinfrescato e raddoppiato. Per chi non ha il lievito madre può fare tranquillamente un lievitino usando 50 g di farina, 25 g d'acqua e 4-5 g di lievito di birra in cubetto. Non appena raddoppia procede come da ricetta. Mettiamo il lievito in una ciotola ed aggiungiamo 210 ml di latte intero a temperatura ambiente. Un cucchiaio di zucchero e iniziamo a far sciogliere il lievito. Una volta che il lievito è ben sciolto aggiungiamo 300 g di farina manitoba. Adesso imbastiamo con le mani. Il nostro panetto è pronto. Adesso copritelo e lasciatelo lievitare fino al raddoppio. Come sempre per chi usa il lievito madre ci vorranno all'incirca 3 ore. Ecco qui il nostro panetto è ben lievitato. Adesso ungete una tortiera da 28 cm e stendete il vostro impasto. L'impasto è steso, adesso copritelo e lasciatelo lievitare nuovamente fino al raddoppio. Ci vorranno sempre 3 ore. Intanto che l'impasto lievita prepariamo le mele. Quindi tagliate 4 mele circa a fettine. Aggiungete il succo di mezzo limone e un paio di cucchiai di zucchero. Qui aggiunto il mezzo limone. Mescolate e lasciate macerare per tutto il tempo che la vostra pizza lievita. Ecco qui la nostra pizza è ben lievitata. Sono passate esattamente 3 ore. E adesso mettete le fettine di mele in bell'ordine. Aggiungete il succo di cucchiai di zucchero. Adesso che avete finito di mettere tutte le fettine di mele, cospargete con dello zucchero. Giusto un paio di cucchiai. Zucchero semolato. E adesso subito in forno. Forno già caldo, statico, 30 minuti a 200 gradi. Ed eccola qui, pronta la nostra pizza di mele. Una variante alla solita torta di mele. Mi raccomando, se anche questa video ricetta ti è piaciuta, lascia un like, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e condividimi sui social. Ciao!